E su tutti voi, figli di Maria, figli del suo cuore immacolato, figli di colei che essi è fatta ancella e che il Padre nella sua potenza ha coronato Regina, su tutti voi che amate la verità e che vi affidate a Maria per trovarla e mai più lasciarla, su tutti voi che siete animati dalla buona volontà, scenda la viva e santa benedizione, affinché, affidandovi e consacrandovi a Maria, possiate già da ora ricevere la ricompensa del Padre e la vita eterna nel Regno che è e sempre più sarà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie.